Come già preannunciato, oltre a Dursi, anche l'attaccante italo-argentino Franco Ferrari. Lo scorso anno 5 gol col coma promosso in B, classe 95 prossimo alle 26 primavere. Come Dursi è stato ingaggiato dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto, in caso di promozione in Serie B. Mancino, centravanti di struttura, 193 centimetri. Una vecchia idea di Giorgio Repetto, storia di 5 anni fa, quando Ferrari militava in D nel Montecatini. 12 reti in 23 partite. Il Genoa lo tessera, Ferrari comincia a girare. Tanta C, tutto cuoio, 6 mesi altrettanti gol. 13 centri l'anno successivo nella Pistoiese. Quindi la B assaggiata a Brescia, 4 gettoni e il successivo trasferimento a Piacenza con l'attuale DS del Delfino Luca Matteassi. In sei mesi, da gennaio a giugno 2019, ben 12 centri e la finalissima play-off persa col Trapani di Vincenzo Italiano. Metà stagione complicata a Bari, un solo gol di nuovo in B a Livorno, da gennaio a giugno 2020. Due reti realizzate. Lo scorso anno, come detto a Como, 5 sigilli in 28 presenze. Con Dursi e Ferrari l'attacco prende sempre più forma. Ma attenzione perché si sta concretizzando il ritorno del quasi 27enne Matteo Brunori. L'attaccante italo-brasiliano, perfetto come caratteristiche per il gioco di Gaetano Auteri, sembra essersi convinto. Dopo i sei mesi poco fortunati trascorsi a Pescara nella stagione 2019-2020, 10 presenze, 0 gol, anzi 1 ma immeritatamente annullato, nella sfida con lo Spezia. Permane la situazione di stallo su Filippo Delicarri, strada non più in discesa. A centrocampo in attacco c'è abbondanza. Arriveranno calciatori solo a fronte di altrettante uscite. In difesa invece serviranno due centrali, un laterale destro, uno o due di fascia mancina. Senzita andrà via.